Ma guarda come siamo belli, ma come siamo belli, ma che bello, che bello, peccato che si è rotto, è arrivato. Eh vabbè ma non è rotto tanto, mamma mia mi ha fatto proprio bene, ma come veramente guarda, ci rassomigliamo veramente bene, bravo, guarda, guarda che bello, ma che bello, veramente bello, grazie, 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 rassomigliamo veramente, bravo, grazie, grazie. Mamma mia un quadro grosso, grossissimo, veramente che ci rassomigliamo veramente, ma come sono contenta, grazie, grazie, sono proprio contenta, il mio Davide adesso lo vedrà, rassomiglia proprio è il Davide, anch'io, rassomigliamo, ma tante volte lo fanno, ma bravo, 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 grazie, peccato che è arrivato rotto, ma fa niente. Giustiamo, cambiamo il vetro, cambiamo il vetro, sì, cambiamo il vetro, perché la buttano di qui ed era fatto su bene, è strano, era fatto su bene eppure ha preso un colpo sicuro, ma fa niente, grazie, 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 sono proprio contenta, ma che bello, ma che bello, Davide, sei contento? Guarda, ci rassomigliamo, grazie, 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 vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene, c'è una bella letterina, poi adesso la leggiamo, grazie, grazie.